Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con Il Fatto. Torniamo a parlare di politica, torniamo a parlare della nuova legislatura, la dodicesima della regione Abruzzo. Ospiti in questi giorni i consiglieri eletti. Salutiamo e ringraziamo per aver accolto il nostro invito Sandro Mariani del Partito Democratico. Buonasera Mariani. Buonasera, buonasera. Rieletto in consiglio regionale, primo della coalizione di centrosinistra allargata a Luciano D'Amico in provincia di Teramo, che comunque pur avendo avuto un ottimo risultato, anzi poi per il riconteggio anche leggermente inferiore a quello di Marsiglio, comunque ha dimostrato di poter contrastare, almeno sul territorio provinciale, la coalizione di centrodestra. Allora, ma al di là delle considerazioni geografiche, quali sono quelle politiche che a suo avviso vanno lette nel risultato del 10 marzo, Mariani? Innanzitutto abbiamo perso, io dico sempre che non faccio parte di quelli che fanno analisi guardando il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Abbiamo perso, abbiamo perso perché sicuramente è forte ancora tantissimo il vento nazionale, quindi alle regionali si sa che c'è anche un voto politico che pesa, molto l'abbiamo visto, e dall'altra parte probabilmente e sicuramente quello che è stato il nostro campo largo non ha convinto fino alla fine, perché è stata una fusione dove io stesso mi sono impegnato tantissimo, ho avuto un ruolo importantissimo nel cercare di cucire e suturare tutte quelle che sono le anime del campo largo di centro-sinistra, però giustamente riflettendoci probabilmente la gente non ha convinto fino alla fine, quindi il grande sforzo sarà quello di dimostrare di saper stare insieme, non per le poltrone, ma perché è nato realmente un progetto attorno al professor D'Amico e attorno al programma del professor D'Amico e di quello che abbiamo in mente noi di fare per l'Abruzzo, quindi abbiamo una sfida importantissima per far capire che quel campo largo non muore, diciamo con la sconfitta che il centro-sinistra ha riportato agli ultimi regionali, ma appunto ha inizio alla sua genesi proprio da lì. Ecco, le chiedo una previsione, un pronostico proprio su questo, due in realtà le domande. Luciano D'Amico, oltre a uomo che unisce, sarà capace in questi cinque anni di essere anche un leader politico della minoranza dell'opposizione in alternativa al centro-destra e soprattutto questa minoranza, cioè questa coalizione che lo ha sostenuto, che si è sfilacciata nelle dichiarazioni dei leader nazionali già all'indomani del voto in questa regione, invece terrà in Abruzzo? Sicuramente c'è appunto, come dicevo, un problema sulla coalizione a livello nazionale, ma i più ben informati sanno benissimo che è semplicemente pretatticismo per la competizione europea. Bisognerà vedere che cosa accade dopo l'europea, i cinque anni sono lunghissimi, probabilmente cambieranno scenari che neanche immaginiamo, ma quello che noi dobbiamo fare è fare opposizione. Io nella scorsa legislatura, ormai questa è la mia terza legislatura, nonostante sia il consigliere più giovane ancora una volta in questa legislatura, io ho sostenuto fin dall'inizio che andava fatta un'opposizione dura, propositiva ma dura, implacabile. Molti miei colleghi hanno ritenuto sbagliato questo tipo di atteggiamento, per poi darmi ragione purtroppo a fine legislatura, perché poi la gente fino alla fine non ha compreso il grande disastro che questa maggioranza riconfermata ha prodotto sul territorio. Gli effetti si stanno vedendo appunto ancora di più in questi giorni, perché molte partite abilmente le hanno rinviate a dopo le elezioni. Proprio in virtù di queste sue considerazioni, io le chiedo, vado subito avanti un po' con una domanda personale che la riguarda, se proprio per il dover capire che ci vuole un'opposizione inflessibile, secondo lei, c'è la possibilità che la coalizione la indichi come Presidente della Commissione di Vigilanza, che è un ruolo che impone intanto questa severità e questa attenzione a tutto ciò che la regione produce in termini di attività di giunta, ma anche una certa esperienza tra i banchi del Consiglio regionale. Lei riterrebbe questo ruolo adeguato se glielo dovesse chiedere naturalmente Luciano D'Amico in primis e poi tutti i partiti che lo sostengono? In politica innanzitutto si può parlare di aver ottenuto un risultato nel momento in cui si viene votati, è piena la storia di persone che dovevano ricoprire ruoli e all'ultimo minuto è accaduto altro. Però diciamo che l'indicazione, io sono sempre molto diretto, l'indicazione e un po' l'accordo tra le opposizioni è quello che dovrebbe vedere il mio nome alla Presidenza della Commissione di Vigilanza. Ma lo dico con grande servietà, non è questa la partita della mia vita. Non è una postazione nemmeno di grande potere, ma anzi di grandi nemicizie solitamente. Sì, però naturalmente io penso che nella vita si fanno delle scelte, si fanno delle scelte e colui che va bene a tutti vuol dire che non sta facendo nulla, perché quando appunto si fanno delle scelte si mette in campo il coraggio, naturalmente ci sono anche dei nemici, dei nemici che possono essere anche nemici per alcuni aspetti e protempori, quindi poi io penso che il coraggio viene sempre premiato alla fine. La Commissione di Vigilanza è un luogo importante, visto quello che andremo a fare, che siamo di fronte alla seconda legislatura Marsilio, quindi si può partire, si deve partire fin da subito, ma quello che io voglio dire ai cittadini è che sicuramente ci vuole una capacità di fare opposizione in maniera dura e implacabile, ma essere propositivi. Di proposte io da parte della maggioranza ne ho viste ben poche, basta vedere appunto, non voglio parlare di quello che accade nella sanità che è sotto gli occhi di tutti, ma basta percorrere la 14 e vedere di fronte a che grande disastro e confusione siamo sottoposti ogni giorno con problemi anche di sicurezza stradale. Quindi io dico due delle grandi questioni, ma sono tantissime le questioni da affrontare e quindi su questo sicuramente noi saremo vigili e propositivi. Ecco, su queste questioni, mobilità in generale e sanità, ha trovato soddisfacenti le linee programmatiche del Presidente Marsilio che ha esposto nel suo primo intervento in Consiglio regionale e che discuterete nella prossima seduta con gli interventi da parte dei vari gruppi consigliari? In realtà il discorso del Presidente Marsilio mi sembra un discorso a 20 minuti, abbastanza triste come discorso, mi permetteranno gli ascoltatori di fare questa osservazione, 20 minuti dove si è parlato semplicemente di poltrone, di allargamento della maggioranza, tipo a dare un segnale di mal di pancia che sappiamo albergano tra i banchi della maggioranza e tra l'altro un discorso anche condivisibile in altri contesti, non in un discorso inaugurale di una seconda legislatura. E altri 20 minuti dove facevo i complimenti al Professor D'Amico e invece faceva notare che non tutti hanno avuto lo stile di D'Amico ma altri sono stati addirittura, come ha detto lui, dissacranti nella campagna elettorale. Naturalmente sembrava, sicuramente mi sbaglio, che si riferisse soprattutto a me, ma se pensa il Presidente Marsilio che io lasci un centimetro alla sua azione politica perché ha rivinto le elezioni, si sbaglia di grosso probabilmente può fare affidamento su qualche altro collega mio, io spero di no, ma sicuramente non su di me che sarò sempre dalla parte dei cittadini e dei tanti che mi hanno e ci hanno votato per fare l'opposizione anche. A proposito di assetti di governo, quale è il suo giudizio sull'attribuzione intanto delle poltrone di assessore e poi anche delle deleghe, le prime mosse dettate anche ovviamente da un risultato elettorale che dovrebbe aver aiutato Marsilio nella selezione e anche nella riconferma di gran parte del suo esecutivo? E come giudica anche questi mal di pancia, insomma si percepiscono e che non sono ancora probabilmente del tutto risolti e forse lo saranno con i sottosegretari e le commissioni? Beh è chiaro che le decisioni sono state prese a Roma, le hanno presi i capi di partito, non mi stupisce questo, so che accade, basta appunto vedere e gettare un occhio sulla non attribuzione a Paolo Gatti dell'assessorato secondo gli eletti in Abruzzo, una persona che ha una lunga e grande esperienza un po' a far ripagare la fuoriuscita di Fratelli d'Italia che ci fu in lo tempo e praticamente altre azioni messe in campo non proprio lineari. Paolo Gatti che poi è stato l'unico a non votare Sospiri perché era assente dall'aula per problemi diciamo fisiologici nel corso della... perché sta sorridendo? Conosco Paolo Gatti, penso che se avesse voluto votare Sospiri lo avrebbe fatto anche con l'Eflebo diciamo, però va bene, la tengo per me, diciamo che è simpatica anche la giustificazione avrei detto la stessa cosa anch'io, diciamo perché ha il sapore ancora più della presa in giro. Bene, invece insomma la questione dal punto di vista istituzionale, adesso torniamo un po' parliamo meno dei gossip, un po' più della realtà, c'è allora un tema fondamentale che è quello dei sottosegretari anche delle surroghe perché pare che la Lega insomma voglia qualche postazione in più e questo potrebbe determinare a suo avviso qualche ulteriore fibrillazione. Poi c'è il tema generale su cui Marsilio ha aperto una riflessione con tutto il Consiglio relativo alla modifica della legge elettorale nella prima fase di questa legislatura. Io penso che appunto stia facendo soltanto una sorta di atteggiamento diciamo attendista quello di Marsilio sa benissimo che per cambiare la legge elettorale ci vuole nella conferenza Stato-Regioni un'azione molto forte, molto impopolare, parliamoci chiaro perché questo è frutto di un populismo a volte anche troppo spinto, ormai vedi moda a raccontare che si riduce, si taglia, poi in realtà si creano i servizi e si è visto che poi appunto a pagare sono i cittadini, ma non si guarda invece al grande sperpero di denaro che c'è su cantieri che non hanno controlli o sulla spesa sanitaria o su tanto altro. Se analizziamo i numeri veramente capiamo che è una presa in giro quello che spesso viene portato come argomento principale, come problema principale. Capisco che questo è uno degli argomenti sicuramente da affrontare, però Marsilio penso che abbia fatto… Ho preso per esempio anche quello di avere qualche assessore in più perché sono troppo pochi. Questo che sono troppo pochi è naturale, lo sanno benissimo tutti, ma non è un discorso da fare secondo me pertinente nel giorno in cui vieni rieletto in Regione. È chiaro che se lo cacci e lo contestualizzi e lo tiri fuori durante il discorso appunto dove sei stato riconfermato da Presidente della Regione per la prima volta, l'unico Presidente riconfermato due volte negli ultimi tempi, se tiri fuori un ragionamento di questo tipo è chiaro che stai dicendo alla tua maggioranza, guardate state tranquilli, facciamo questa giornata con la stampa, con le famiglie, con le autorità religiose e civili, svalichiamo questa giornata di grande attenzione mediatica e poi piano piano cerchiamo di risolvere. La tipica tecnica per chi fa politica è di prendere tempo sperando che i problemi vengano o dimenticati perché qualcuno ci rinuncia o si autorisolvono, quindi questa è una tecnica vecchia come la notte dei tempi, però penso, consiglio che posso dare a Marsiglio, mi permetto di dire che siccome di fronte alla seconda legislatura queste cose generalmente funzionano alla prima legislatura, che ci vuole l'entusiasmo e sicuramente la prospettiva. La luna di miele. La seconda legislatura, la luna di miele, è già un matrimonio che dura da parecchio tempo. Allora Mariani, per chiudere, ma per tornare su un tema però ovviamente reale, lei ha fatto tante battaglie sulla sanità, ha assistito peraltro in questo primo consiglio regionale anche alla presenza di numerosi direttori generali delle ASL, proprio a seguire questo, per carità invitati a seguire questo insediamento. La riconferma dell'assessore Verì e anche delle linee programmatiche che ora sulla rete ospedaliera e sui progetti che la regione ha avviato a suo avviso, sono incoraggianti o saranno terreno di una battaglia, come lei dice, corpo a corpo, atto per atto nei prossimi cinque anni. Mi sembra palese, lo capirebbe anche un bambino alla scuola dell'infanzia, che se Marsiglio fa un discorso dove praticamente, e quindi questa maggioranza premia a macchia di Leopardo i primi degli eletti, fa un discorso ben preciso, strutturato, ma eccepisce fin dall'inizio la possibilità di intervenire, che so che qualcuno ha appunto posto l'evidenziatore dicendo che la Verì non va bene alla sanità perché è bocciata dagli elettori, promossa da Marsiglio, quindi quando avvengono queste cose vuol dire che la Verì è stata una donna di fiducia del Presidente Marsiglio, mi dispiace che gli elettori non hanno capito che era una stessa cosa, perché gli elettori hanno bocciato la Verì, che ha fatto un risultato francamente, l'assessore della sanità uscente deludente e invece ha premiato Marsiglio, quindi sono stati bravi a ingannare i cittadini facendo finta che Marsiglio era una cosa e gli altri, tipo l'assessore Verì, era un'altra questione, con il giochetto della Lega, di Fratelli d'Italia, ma questo era chiaro fin dall'inizio, qui torna il discorso che non si è fatta l'opposizione come la dovevamo fare, cosa che mi permetto di dire che ho fatto in maniera implacabile, perché la gente andava spiegato, perché non è scontato che la gente ha dei problemi quotidiani, quindi a volte ha dei problemi, quindi non è concentrato sulla politica, quindi è compito nostro spiegare in dialetto, in maniera molto semplice, che spesso il linguaggio che si adotta in TV o in consiglio è incomprensibile, lo dico spesso a qualche mio collega, faccio fatica anche io a comprenderti, quindi come facciamo a farci comprendere i cittadini, quindi messaggio semplice, la Verì che non penso abbia fatto bene in sanità, perché basta appunto prenotare una visita, un intervento chirurgico, un esame diagnostico, vedere quali sono le liste d'attesa e Marsiglio sono la stessa cosa, quindi oggi io mi vedo riconfermata a la Verì, gli farò i complimenti perché vuol dire che la sua calma, la sua tranquillità che io non comprendevo era frutta della garanzia che appunto aveva un bel posto caldo in cassaforte. Sulle politiche sanitarie invece sarà battaglia al di là delle persone per i prossimi cinque anni, questo mi pare che sia il suo punto. Questo è una battaglia dove io ho sempre fatto una battaglia molto propositiva e mai demonitiva, non ho mai fatto una battaglia fatta di luoghi comuni, dicendo sono contro la sanità privata o sono a favore della sanità pubblica, io ho detto analizziamo caso per caso, l'ho detto sempre, lo rivendico, che le ipocrisie a me non piacciono, analizziamo caso per caso, abbiamo liste d'attesa così lunghe, compriamo pacchetti di prestazioni, tanto io non riesco a prenotare la visita, la devo fare, la devo pagare lo stesso con i miei soldi, le prestazioni le compi con i soldi delle tasse dei cittadini, quindi invece di farmela pagare due volte, fatemela pagare una volta, quindi cerchiamo in tanto di compensare questo grande disagio che c'è, che la gente soffre preoccupata in attesa, come ho detto prima, di un intervento chirurgico che non se lo può permettere, oppure di una visita diagnostica, quindi prima saniamo questo e poi capiamo come riorganizzare anche la sanità pubblica che è messa male. Bene, io ringrazio Sandro Mariani, gli auguro buon lavoro per i prossimi 5 anni in Consiglio regionale e grazie anche ai nostri telespettatori, arrivederci.